Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui benvenuti come ogni lunedì al webinar del lunedì delle ore 18 di investire.biz. Io sono Riccardo Zago e in mia compagnia c'è Giancarlo Prisco che saluto. Abbiamo tantissime cose di cui parlare, partiamo dal calendario economico, vediamo quali sono gli appuntamenti della settimana e poi chiaramente andiamo a fare l'analisi dei principali mercati. Allora, innanzitutto buonasera Giancarlo, come stai? Tutto bene, eccomi qua, scusatemi in ritardo, sono più richiesto del solito in questo periodo, quindi mi devo dividere, ma ovviamente a Riccardo non posso mai dire di no, non ci mancherebbe altro. No, Riccardo è proprio un dovere morale e obbligato, quindi scusate in ritardo che ho fatto un salto da una trasmissione all'altra, ma qui adesso sono tutto vostro. Ciao a tutti, siamo in tantissimi quest'oggi e iniziamo quindi come abbiamo detto con il calendario economico di questa settimana, perché il dato più importante lo avremo poi proprio mercoledì con insomma il dato sull'inflazione. Cosa ti aspetti Giancarlo questa settimana, sia sul fronte degli Stati Uniti che poi anche in Europa? Come vedete ecco qui il giorno cruciale, mercoledì 10 aprile, che sarà anche il mio compleanno, tra l'altro, che è una cosa sicuramente meno importante dell'inflazione negli Stati Uniti, giusto? E' più importante il comprendo di Riccardo Zagli che l'inflazione negli Stati Uniti, stiamo scherzando, io non sono d'accordo, anzi sarà Powell che ti chiamerà e ti farà gli auguri, giustamente, mi farà uno stimolo monetario dedicato come regalo magari. Eh, tanto ne ha lui. Eh, a voglia, tanto produce. Allora, sarà una settimana molto importante perché dobbiamo fare un attimo il punto della situazione, cercherò di essere breve perché non è il caso di allungarsi troppo. Allora, quello che è successo la scorsa settimana, cerchiamo di dare una veste, diciamo, logica di quello che è successo e voi dovete imparare sempre una cosa importantissima e non dovete mai dimenticarla, Wall Street quando deve fare una correzione deve prima distribuire e ci mette molto tempo, anche varie settimane, a volte mesi. Quindi, non sto parlando che il mercato cambia la sua direzione, poi vi spiego io il perché, beh, l'ho detto già in parte in linea con l'economista, ma vi ripeto anche, ci sono anche dei motivi politici e anche di strutturazione economica all'interno degli Stati Uniti che stanno cambiando alcune cose, per cui, eh, difficilmente ci sarà un cambio di direzione. Qual è il problema? Il problema è che voi avete visto dei movimenti molto violenti nei mercati, dovuti a vendite forzate attivate dai robot, quindi dagli algo. Ad esempio, quello che successe giovedì fu dovuto a un trigger, un punto trigger vuol dire un punto chiave che erano i 90 dollari del Brent che hanno attivato le vendite forzate automaticamente sugli indici. Perché ovviamente è un petrolio che comincia a salire in quel modo, è indice del fatto che, eh, a parte che era un punto chiave, però capite che anche il petrolio che sale in questo modo farà aumentare comunque un po' l'inflazione. Quindi è un movimento puramente tecnico, si chiamano vendite forzate. Anche le vendite che abbiamo visto, eh, dopo l'intervento di Powell, sono state piccole vendite settoriali, ma se andiamo a prendere i titoli, eh, come Microsoft, Google, per esempio, quelli continuano a salire. Quindi ci sta un attimino al dato per capire la differenza tra vendita forzata e correzione nel vero senso della parola. Ora, la partita si gioca adesso, perché noi stiamo assistendo a un pullback, eh, di lunedì. Eh, anche martedì probabilmente seguiremo, ma dobbiamo capire da mercoledì se l'inflazione può essere il motore per nuove vendite. In termine tecnico, eh, non abbiamo nessun segnale, diciamo, al cento per cento chiaro che i mercati possono scendere. Noi abbiamo assistito a una candela di giovedì, che è proprio una candela puramente algoritma, ma poi i mercati hanno ripreso in buona parte gli acquisti, ad esempio l'SP, eh, le Nasdaq hanno recuperato la maggior parte della caduta. Il DAO purtroppo è un po' indietro, ma è normale perché in questa fase si sta di nuovo preferendo l'acquisto su il tech. Quindi si ritorna a comprare quello che effettivamente ci può dare qualcosa nel lungo. Ovviamente questo non significa che il mercato non possa scendere. Io mi aspetto una fase correttiva, però affinché questa fase possa essere presa bene, dobbiamo avere un movimento più dolce. Deve essere, non so, eh, su base settimanale vedere un paio di massimi decrescenti. Allora in quel caso la cosa funziona. Stamana abbiamo mandato anche i livelli su, eh, su, su TradeS Club. Effettivamente avete notato come i supporti che avevamo, eh, identificato due settimane fa, hanno funzionato come un orologio. Quindi abbiamo già il livello chiave per SP, 5153. Solo la rottura di questo livello potrebbe attivare delle accelerazioni. Ma quanto può scendere il mercato questo mese, nella peggiore delle ipotesi? Magari 5.090 ci sta, ma quanto può scendere? Allora il problema è capire se entriamo in una fase laterale ribassista di un 5-7% almeno, che però viene stesa fino a maggio, poi i mercati torneranno a risalire. Quindi dovete aspettarvi una volatilità in attesa, ci sta. Perché adesso faranno, cominceranno a fare gli aggiustamenti, verranno utilizzate le news per fare manipolazioni, e quindi alla fine è un mercato, diciamo, più di trading, ma è realmente parlare di inversione di trend o di correzione violenta, ci starei un attimino attento. Io sono convinto che nelle prossime due settimane avremo, eh, delle specificazioni da questo punto di vista. quindi il fatto che il mercato possa scendere, sì, un 5% di correzione minimo ci sta tutto, e spero che lo faccia finalmente, perché lo stiamo aspettando ad almeno metà marzo. Come vedete la soggiornalità è saltata tutta, e queste sono tutta una serie di manipolazioni, perché vedete anche un dollaro forte, molti si domandano come fanno le borse a salire, perché con un dollaro forte, fa parte tutto di un sistema che sta, usando gli Stati Uniti, per imporre una volta in più la sua forza sul mondo, perché stanno facendo i processi di delocalizzazione, non so se qualcuno ha sentito la Jelen la scorsa settimana, che ha detto chiaramente ai cinesi, che era in Cina in visita con il presidente, che dovranno esportare meno, perché gli Stati Uniti cominceranno a fare produzione interna, lo faremo anche in Europa, quindi abbiamo bisogno di inflazione e di una moneta forte. Ecco perché, nonostante ci siano queste condizioni, la Fed, quello che sta facendo è iniettare liquidità attraverso i fondi Rebo, e poi aiutare il tesoro degli Stati Uniti con le spese, i bond e anche le spese di guerra. Quindi difficilmente questo mercato può invertire il trend in questo momento, ma può avere dei movimenti di medio termine ribassisti. Quindi questa settimana la nostra attenzione sarà centrata proprio nella giornata di mercoledì, perché se adesso i mercati riescono a fare un rialzo, siamo bloccati in un range di 100 punti, quindi alla fine non è cambiato niente. Ovviamente quando ci sono questi movimenti così violenti, di solito si creano le condizioni poi per un trend più definito, quindi in questo caso per l'SP, che prendiamo come referral, siamo nel mezzo di questi due livelli chiave, che sono i 5253 e i 5153, quindi tra supporto e resistenza. Quello che dovremo verificare è se questa zona può essere realmente abbattuta, ma non mi aspetto che i prezzi crollino di due o trecento punti. Al massimo potremo avere un'amplificazione a 5100, 130, magari 5090, ma questo non è un processo che può essere fatto in un giorno. Ci tengo a chiarirlo perché poi magari uno vende, si ritrova sul multiday un giro dei prezzi e non capisce il perché. Quindi il dato dell'inflazione sarà il nostro punto chiave della settimana e vedremo se possiamo magari provare a fare almeno uno short per 1-2 giorni, perché poi vedete cosa succede, più è violento il movimento, più è violenta la reazione contraria, quindi si fa un 50% di pullback in mezza giornata e poi magari si ritorna a scendere. Io personalmente sono leggermente propenso questa settimana a vedere un po' di short sul mercato, ma questo short lo posso vedere solo e esclusivamente se rompiamo il minimo di giovedì, altrimenti rischiamo di fare una brutta fine, perché poi magari il mercato ti comincia a scendere e poi all'improvviso torna a salire. Un'altra chiave, concludo, è il VIX, perché il VIX ha cominciato a dare dei segnali di nervosismo facendo dei picchi rialzisti proprio la giornata di giovedì e quindi anche gli operatori si stanno cominciando a coprire, per cui quello per esempio non è un bel segnale, perché comunque il fatto è che il VIX rimane forte mentre i mercati salgono, attenzione, può essere una trappola. Quindi noi abbiamo i livelli su cui lavorare, aspettiamo mercoledì e lì avremo un po' di direzionalità, però ripeto, dovrete stare molto attenti perché i movimenti, non si possono prendere in rottura questi movimenti, perché il rischio è poi di vedere quello che stanno facendo anche nella sessione di oggi, no? Se avete visto, oggi i mercati hanno fatto in un range molto piccolo almeno quattro movimenti contrari, salgono, scendono, salgono, scendono e quelli di ricchiata di impazzire. Quindi il mio consiglio è questa settimana aspettate mercoledì, perché poi parlo di multi-day ovviamente, poi da lì avremo modo di capire se il ribasso può partire con una certa avvivenza, a meno che prima di mercoledì non verrà abbattuto il supporto sull'SP, allora si trascinerà anche gli altri insieme, quindi Nasdaq e DAO. Tra l'altro, grazie mille per la spiegazione interessante che andremo a riprendere su più punti, però partiamo proprio dalla fine dove insomma abbiamo visto come l'S&P 500 per dare un segnale ribassista deve ritornare al di sotto di quale livello almeno? Beh, del poco, comunque della concentrazione volumetrica della settimana scorsa, dei minimi della settimana scorsa, dove poi c'è stato questo giro rialzista forte. Per questo anche Giancarlo dice attenzione agli short multi-day perché può tranquillamente fare un ritracciamento importante come questo dell'1,5%, stiamo comunque parlando di 70 punti e quindi per questo bisogna stare attenti e contenere quello che è il rischio operativo. Quello che dici tu arriva nella zona gialla questa, lo ritesta e poi torna a salire e vi ritrovate scornati, scusate l'espressione poco tecnica, purtroppo è così. Sulla carta, ripeto, lo short ci sta, però visto che abbiamo un dato così importante dovete stare attenti, anche perché comunque i margini magari sul giornaliero sono interessanti, ma sul multi-day siamo veramente sulla miseria, stiamo parlando di un per cento, cioè non è proprio lo short della vita. Ovviamente questi livelli, anche con Giancarlo, noi li troviamo in maniera estremamente semplice grazie al Bits Profile che vedete qui sulla piattaforma del Broker Drive, che tra l'altro regala l'indicatore Bits Profile se avete un conto finanziato. Quindi Drive, broker regolamentato all'interno dell'Unione Europea, nuovo broker partner che stiamo usando per operare. Ci troviamo molto bene anche per i costi che sono estremamente contenuti, tra l'altro verso metà del mese di aprile, metà, fine aprile. Ci sarà anche un'ulteriore riduzione dei costi, una promozione che però non possiamo far vedere quest'oggi. Ricordo anche che con Drive potete avere tre tipi di conto. Il classico, con degli spread a partire dallo 0,7, quindi tipo su euro-dollaro 0,7 pip, il prime da 0,5, mentre il prime plus da 0,1. Ovviamente questo è dedicato anche a chi vuole fare trading intraday di brevissimo termine. Quindi Volume Profile, che noi in questo caso chiamiamo Bits Profile perché abbiamo apportato delle modifiche interessanti come per esempio, come qui vedete l'estensione dei POC, in questo caso notiamo che sulla soglia dei 5.225 abbiamo delle zone volumetriche estremamente interessanti, anche qui coloro dovesse esserci un massimo decrescente, potrebbe essere un altro segnale ribassista, ma come diceva Giancarlo in precedenza, la zona più importante è proprio questa, da oltrepassare questa settimana. Potrà succedere questo mercoledì? Mercoledì pomeriggio? Beh, ricordiamoci che come diceva in precedenza Giancarlo c'è l'inflazione alle ore 14.30 e poi successivamente c'è anche le scorte di petrolio, ok, i verbali di Rione del Fonco alle ore 20 e proprio a fronte di un giorno così importante sotto il punto di vista macroeconomico che di conseguenza può portare abbastanza volatilità, abbiamo deciso che questo mese la Scalping Live si terrà proprio mercoledì, dopo l'inflazione. Quindi aspetteremo il dato dell'inflazione e poi a partire dalle ore 15.15, come solitamente magari facciamo durante la Fed dalla sera alle ore 19.30 alle 19.45.20. Questa volta andremo a commentare e tradare e fare Scalping in diretta con ovviamente il nostro conto, commentando l'apertura dei mercati americani e di conseguenza andremo a fare Scalping o comunque a operare su S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones, commentando quello che è l'inflazione e chiaramente andando a fare un'analisi soprattutto volumetrica di tutti i livelli più interessanti. Quindi l'evento del mese è questo, Scalping Live con Giancarlo Prisco ci sarò anche io e quindi vi aspettiamo come sempre mercoledì 10 come ogni mese al pomeriggio alle 15.15. Per chi ha la Scalping Live costa 79 euro, però se avete un conto con il broker Drive potete avere una scontistica e quindi ringraziamo anche Drive per l'iniziativa. Torniamo sulla piattaforma perché abbiamo visto S&P 500, andiamo velocemente a commentare anche gli altri due indici. Ah, tra l'altro ringraziamo le numerosissime persone che hanno lasciato una recensione alla Scalping Live, ben 94, la facciamo da tanto tempo, ma a noi piace sempre ricevere anche i vostri feedback, quindi vi lascio in descrizione innanzitutto il link per leggervi un po' le recensioni e poi andare anche a vedere, qualora siate interessati, una sessione intera di Scalping. In questo caso abbiamo quella del 2606, potrei anche aggiornarla con l'ultima, però questa non è male. Io sono più grasso però, mi devi mettere dove sto più secco. Ok, ok, allora la aggiorno. Non ho scherzo, scherzo. E ve l'ho lasciato in chat, ve l'ho inviato adesso, mentre se volete aprire un conto con il broker con cui anche noi facciamo trading, quindi Drive, vi lascio qui il link in descrizione. No, scusate. Eccolo qui. E vi lascio anche questo nella chat. Benissimo. Allora, Antonio dice, un piacere essere accompagnati da due prof trader come voi addirittura. Grazie mille Antonio e grazie poi anche a tutte le persone che come sempre lasciano la recensione, perché per noi è veramente molto importante anche sapere come vi trovate voi durante queste sessioni, perché non sono normali sessioni, sono sessioni dove c'è altissima volatilità e l'obiettivo è quello di fare i soldi, come sempre. Però, attenzione, perché da queste sessioni bisogna uscire anche con un valore aggiunto che può esserci utile per le sedute dei giorni successivi, anche in maniera autonoma, ovviamente. Quindi spieghiamo il perché entriamo, spieghiamo quali sono i nostri obiettivi, se prendiamo uno stop, spieghiamo perché l'abbiamo preso, se abbiamo fatto comunque una buona analisi, se per caso siamo entrati in ritardo. Insomma, c'è proprio tutto quello che sta dietro la vita di un trader in questa sessione, che sarà quindi il 10 aprile, dalle ore 15.15 alle ore 16.30. E allora andiamo avanti perché dopo aver analizzato l'indice Standard & Poor's 500 dobbiamo aggiornare anche il Nasdaq, che insomma so bene che è uno dei vostri indici preferiti. Anche qui il PITS Profiler, come potete vedere, ci aiuta moltissimo e ci fa notare come la soglia in più importante, la troviamo in area 17.940, chiaramente il giro c'è stato anche qui sui minimi, e quindi come su S&P insomma la rottura di questa zona supportiva magari anche in chiusura daily aprirebbe a nuovi trade multi-day. Comunque come lo vede il Nasdaq rispetto all'S&P per questa settimana? Il Nasdaq è un po' sotto pressione perché la questione dei tassi è un po' pesa, però fino a un certo punto, perché comunque la resistenza 18.300, 18.400 sono zone piuttosto dure e dal 20 marzo non c'è possibilità di essere abbattute per ora, quindi in ogni caso non è che cambi molto perché poi il problema è qui che avrei bisogno di una correzione molto più corposa, dovrei arrivare sull'area di supporto mensile che è intorno ai 17.000-17.140, ma questo ritmo di lentezza è molto difficile che il mercato vada a testare, stiamo parlando vicino ai minimi dell'anno, ma molto difficile, sarebbe il top, non cambierebbe assolutamente nulla, anzi avremo delle occasioni di acquisto interessanti. Per ora il livello forte è quello che abbiamo segnato più volte da marzo, che è la zona dei 17.688-17.500, non ci siamo più tornati. Non ci siamo più tornati dal 16 febbraio e in ogni caso quella è la zona più forte, non c'è modo di andare al di sotto di essa e non c'è modo neanche di toccarlo, dipenderà da quello che succede questa settimana. Senza ombra di dubbio, bisogna stare molto attenti perché se il minimo della scorsa settimana viene abbattuto potremmo avere un'accelerazione. Qual è il problema? Il problema è sempre lo stesso, il tech fa gola e ogni ribasso viene prontamente comprato. Quindi secondo me la fase correttiva nei prossimi due mesi non posso escludere, se dovesse iniziare che il Nasdaq si avvicini ai 17.000 punti, non cambierebbe assolutamente nulla, però una correzione di 1.000 punti fa gola perché poi potremo veramente cominciare a fare degli acquisti importanti a lungo termine, aggiungere ulteriori posizioni. Per ora, ripeto, il Nasdaq ha questo tappo sui 18.372 che è bello tosto perché ci sta lottando da circa 15 giorni e non l'ha mai rotto, quindi il movimento di ieri, di giovedì, bisogna stare attenti perché probabilmente scenderà magari altri 100-200 punti, ma abbiamo comunque dei supporti forti, quindi o cambia il sentiment o qui non se ne parla proprio, perché il Nasdaq è proprio nel mezzo, diciamo un mezzo limbo, sta bloccato tra resistenze e supporti, i movimenti sono molto particolari, violente cadute, violenti rialzi, stanno facendo degli aggiustamenti e si vede, quindi per me tutto dipenderà da quel supporto che comunque è il supporto che anche esso è mantenuto da fine febbraio, di 17.834, dipenderà molto da questo perché è una zona volumetrica abbattuta più volte e non c'è stato modo di abbatterla, quindi tendenzialmente cercheranno di avvicinarsi, ma il problema è che come si avvicinano a questa zona possono poi riportare i prezzi su, da un punto di vista volumetrico quel movimento di giovedì per farvi capire in realtà dovrebbe essere l'inizio di un ribasso, ma proprio perché siamo in una fase anche diciamo particolare del mercato dovremo avere ulteriori conferme, anche perché ogni volta che poi si cerca l'accelerazione al ribasso il mercato puntualmente fa l'esatto contrario, quindi adesso la partita si giocherà proprio mercoledì anche per il Nasdaq, ovviamente è un dato dell'inflazione che vede una Fed più restia a tagliare i tassi così presto non farà bene al Nasdaq che potrebbe essere poi quello che paga di più al ribasso e lì potremo poi anche divertirci con lo scalping quando staremo insieme a ieri e a Riccardo, sarà una giornata sicuramente divertente. Corretto, tra l'altro ecco qui le previsioni sull'inflazione attesa al 3,4% in leggero aumento rispetto al mese precedente. Tra l'altro venerdì anche insieme a Vincenzo Pena abbiamo un attimo analizzato quello che è il mercato del lavoro e insomma abbiamo visto come certo ci sono quindi stati degli ottimi dati, il mercato del lavoro rimane forte, molto forte, accompagnato dobbiamo dirlo comunque anche da un aumento considerevole dei lavori part time però attenzione, però comunque ci sono. Quindi questo forte mercato del lavoro potrebbe far di conseguenza aumentare aumentare l'inflazione? Staremo a vedere venerdì, scusate no, venerdì, mercoledì che cosa succede perché come diceva Giancarlo il Nasdaq potrebbe essere l'indice più volatile sia in caso di dato positivo sia in caso di dato negativo perché chiaramente poi da lì gli investitori vanno a apprezzare o meno eventuali tagli dei tassi nei prossimi mesi. Allora dopo il Nasdaq andiamo a fare un giro anche in Europa e parliamo di DAX poi io voglio parlare di Bitcoin velocemente e del Natural Gas dove siamo long e ci siamo lasciati qui due settimane fa dove dicevo che entravo long sul Natural Gas e allora voglio farvi vedere la gestione della posizione e poi chiaramente anche qual è la view su Bitcoin. Partiamo però dal Natural Dax l'indice europeo come lo vedi rispetto ai cugini americani? In realtà ho visto anche il Futsi Mib i margini di disceso sono veramente bassi non c'è modo anche perché il supporto settimanale è veramente lontano diciamo aria 17.700 17.600 la zona da cui è partita il rialzo ma in realtà ci doveva già arrivare qui il Dax anche il Futsi Mib stanno mostrando una forza incredibile ci sono importanti flussi che stanno entrando quindi giovedì ci sarà la BCE e vediamo se Lagarde delude un po' sul taglio dei tassi io credo di sì perché non credo assolutamente che la BCE va a tagliare i tassi prima della Fed mi sembrerebbe qualcosa di assurdo perché non si è mai visto la BCE fare qualcosa prima della Fed quindi la riunione importante per me sarà quella di maggio quando dovrebbero fare una specie di preannuncio come dovrebbe farlo anche Powell ma per ora il Dax ha una forza bestiale cioè non c'è modo di buttarlo giù il problema qual è? se è vero che abbiamo una serie di massimi decrescenti e con anche importanti volumi il problema è che l'area dei 18.000 18.100 non viene abbattuta e stiamo sempre punta quindi il problema è se questo rialzo viene negato ecco quasi per esempio secondo me si sta presentando un'occasione interessante perché se arriviamo belli tonici fino a giovedì ma non rompiamo i 18.400 quindi il massimo precedente allora magari la Lagarde delude il mercato e si potrebbe poi paventare uno short interessante il problema qual è? che questi short non durano manco mezza giornata cioè poi Dax puntualmente prende sale oggi il Dax sta facendo un movimento rialzista veramente bello pulito e lento quindi sì tendenzialmente bisognerebbe cercare degli short su questi spike ma ci vuole un'accelerazione altrimenti rischiate di rimanere ingabbiati credo che sia possibile testare quei minimi di giovedì ma tutto dipenderà da quello che dirà la Lagarde perché ovviamente se la Lagarde ma poco poco apre al taglio dei tassi anche se in maniera verbale il Dax torna subito a 18.500 poi da lì addirittura andremo a cercare noi massimi storici sulla carta avendo già raggiunto il target annuale che io avevo il target finale annuale immaginare quindi qua addirittura bisogna cominciare a ragionare su altri livelli e dovrebbe scendere un po' però avete bisogno del segnale il segnale secondo me partirà tra sicuramente tra mercoledì e giovedì soprattutto se la Lagarde delude i mercati e quella normalmente delude i mercati allora avremo questa possibilità altrimenti il Dax lo vedrete volare alle stelle di nuovo così come il Fuzzimib saranno delle ottime opportunità long in caso di apertura al taglio dei tassi fantastica spiegazione anche sul Dax tra l'altro vedete come mentre che Giancarlo parlava sono andato nella lista degli indicatori selezionando il Biz Profile potete vedere come in maniera molto semplice andate a cambiare il numero di periodi questo che cosa vuol dire? questo vuol dire che per ogni periodo vuol dire che è una sessione giornaliera e quindi sono andato a mettere le ultime 30 sessioni in realtà bastavano anche meno e da qui possiamo vedere in maniera velocissima le ultime 30 sessioni sotto il punto di vista del Volume Profile e quindi vedere tutte quelle zone anche delle settimane precedenti dove c'è stata una maggiore densità volumetrica e come diceva anche Giancarlo guardate abbiamo questa zona qui molto importante in area 18.000 più in basso però ci accorgiamo che 18.000 punti è un altro livello chiave guardate qui ovviamente come dicevo le zone gialle sono le zone più importanti o comunque le zone che sono state più importanti che quindi poi ci danno una linea guida su quelli che possono essere i comportamenti del prezzo quando il DAX arriva su quei livelli perché può anche fungere da supporto ma potrebbe tranquillamente anche rompere al ribasso con forza ed è questo che cercheremo di capire proprio mercoledì durante la Scalping Live per insomma vedremo come si comporterà questo DAX attenzione però perché come detto anche le parole della Lagarde sono molto importanti e chissà se questo DAX se ne va verso i 20.000 per fine anno chi lo sa staremo a vedere comunque indice molto molto forte come però è molto forte anche la criptovaluta per eccellenza Bitcoin che proprio oggi segna un rialzo molto importante con un nuovo test dei 72.500 ci avviciniamo ai nuovi massimi storici ricordiamo che noi di investire.biz come obiettivo annuale avevamo gli 80.000 ma se continuiamo così qua mi sa che andiamo ben più in alto ci avviciniamo però a un periodo estremamente importante per la criptovaluta per eccellenza e sto parlando dell'Alvin quindi l'Alvin che sarà intorno al 20 di aprile adesso ci sono dei dati da analizzare poi questi li vedremo insieme a Cristian Franchin che è il nostro cripto specialist perché già c'è un un segnale non così positivo da parte dei miner però di questo ne parleremo lo ve lo faccio vedere mercoledì dove siete tutti invitati al cripto webinar del mercoledì uno dei più importanti dell'anno ragazzi perché tra poco ci sarà l'Alvin molte cose potranno cambiare attenzione perché anche qui a mio avviso potremmo assistere a un buy the rumor sell on the news questo però non ne siamo certi staremo comunque a vedere in ogni caso quello le occasioni importanti che si creano solitamente che si sono create nell'arco degli ultimi anni sul mondo delle criptovalute riguardano si bitcoin come asset e riserva di valore da mantenere nel lungo termine ma i veri soldi si fanno durante il post halving ovviamente su asset estremamente speculativi molto più di bitcoin che sono le altcoin infatti come potete notare qui abbiamo messo questo bel fascione con scritto scopre le migliori altcoin post halving e negli ultimi mesi insieme a Christian Franchin proprio siamo andati a creare un report completo di oltre 120 slide dove andremo a condividere con tutti voi quelle che sono le altcoin che sono quindi le criptovalute alternative a bitcoin che potrebbero performare a nostro avviso molto molto di più di bitcoin nel 2024 2025 ovviamente sempre seguendo quella che è la narrativa rialzista che riguarda anche i mercati tradizionali quindi vi lascio il link anche del report che al momento è in sconto del 50% e qui troverete tutte le nostre altcoin tutte le altcoin su cui noi di investire.visa abbiamo investito quindi vi lascio anche qui il link nella chat perché ragazzi qui ci sono delle occasioni a nostro avviso interessantissime proprio perché andando nello specifico a studiare i progetti insomma ci siamo accorti che ci sono delle altcoin a bassissima capitalizzazione che potrebbero diciamo avere un bel seguito non dico subito appena c'è l'alvin ma nel corso di questo nel corso di quest'anno e dell'anno prossimo tra l'altro se lo acquistate non solo avrete il report perché faremo poi anche un webinar dedicato proprio alle altcoin dove spieghiamo quali sono con che percentuale abbiamo investito la diversificazione del nostro portafoglio quali sono i progetti a bassa capitalizzazione più interessanti e inoltre il canale telegram gratuito cosa faremo in questo canale telegram gratuito andremo a condividere poi tutti gli aggiornamenti perché magari è facile non è facile in realtà ma non è la cosa difficile non è tanto individuare il progetto giusto che è già comunque una cosa difficile ma è anche poi saper gestire quella posizione perché non bisogna essere avidi in queste situazioni quando fai un bel profitto un per dieci un per cinque quello che è bisogna anche saper uscire dalle posizioni e noi andremo a condividere anche questo tipo di operatività quindi chiudere parte della posizione spostare lo stop in profitto in pareggio eccetera 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 quindi investire in altcoin ragazzi approfittatene 149 euro e poi sconto del 50% fino a fino al 17 di aprile e dopo aver parlato di cripto voglio però anche la tua view Giancarlo su bitcoin ma io in questo momento sto seguendo tutta quella che è la parte dei cicli degli odler dei miners eccetera quindi innanzitutto dobbiamo capire in che parte del ciclo di bitcoin siamo e noi siamo arrivati praticamente a un primo massimo pre halving adesso ci stiamo preparando a passare al ciclo alla parte successiva al massimo del ciclo successivo quindi la questione dell'halving secondo me è relativa perché poi abbiamo anche la questione dell'etf su ethereum a maggio quindi se i mercati devono stornare come hanno sempre fatto i mercati cripto tra maggio e luglio dovremo vedere se questa volta lo fanno perché se l'etf viene approvato immediatamente non credo ma comunque viene approvata a luglio perché black rocks la deadline l'otto luglio c'è il mercato può continuare a rimanere bello tonico e sinceramente in ogni caso non mi aspetto il 50% di correzione su bitcoin mi sembra un po' fuori luogo anche perché vero i miners vero tutto ma ricordate che comunque l'etf deve essere venduto ai grandi fondi e ovviamente un prodotto che uscirà del 50% non è proprio una cosa vendibile quindi dovete stare anche un attimo attenti a come è cambiato questo mercato delle istituzioni e abbiamo assistito a un movimento molto laterale in questo mese e mezzo e in ogni caso adesso stiamo arrivando a una cuspide dei prezzi dove avremo un movimento importante e la dinamica di domande offerte è molto semplice voi dovete partire sempre da quello che fanno gli holdless perché sono quelli più importanti in questa fase i miners sì ma fino a un certo punto possono far muovere il bitcoin gli holdless hanno spostato oltre il 40% della loro ricchezza ai nuovi investitori negli ultimi tre mesi ecco perché abbiamo assistito a questa fase distributiva ma in realtà è una notizia positiva perché è qui è quando comincia a innescarsi poi la famosa marea della domanda quando arriviamo nella fase parabolica ma non è una cosa che deve necessariamente succedere adesso potrebbe anche succedere attivamente a fine anno inizio l'anno prossimo che il ciclo del bitcoin finisce rialzista finirà a ottobre 2025 quindi per quanto ci possono essere delle differenze questa battaglia che c'è tra istituzionali e diciamo è la parte più hudler e exchange ha bisogno di tempo per trovare un equilibrio ed ecco perché ma a tempo sto parlando di mesi e mesi quindi dovete partire da un presupposto molto semplice e l'accelerazione che siamo che abbiamo visto da parte proprio degli hudler è quella è quando si prepara la fase iniziale del raggiungimento dei nuovi massimi ok tenete presente che noi abbiamo avuto anche già l'apporto degli etf no ma le dinamiche sono sostanzialmente identiche per cui il ciclo deve andare nella solita direzione la fase finale dove possiamo arrivare tra l'alving e post-alving e non sono d'accordo di vedere subito i 120 mila dollari che è il mio target per il 2025 e quello più probabile per bitcoin probabilmente il target reale è una zona tra gli 80 e i 90 mila dollari non credo che arriverà a 100 perché lì giocheranno parecchio su questa cosa poi si potrebbe stornare ma secondo me bitcoin oltre i 50 ma massimo 45 mila dollari non scenderà quest'anno dovreste cominciare a vedere il bitcoin come un carrozzone bello grosso tipo un SP per cui tenete presente che magari la dominance di bitcoin perderà un po' di forza adesso perché adesso ethereum realmente è quello che ha delle potenzialità bestiali è super sconto è una roba pazzesca e quindi lì non abbiamo manco fatto con i massimi storici quindi immaginate dove possiamo arrivare almeno ma 6 mila secondo me è pure poco io direi almeno 8 mila dollari c'è un'ampia probabilità nei prossimi 12 mesi quindi questi sono strumenti che si possono tranquillamente comprare a lungo e soprattutto tenere presente quello che vi ho detto prima se ci dovessero essere eventi di guerra molto forti oltre all'oro che sale anche il bitcoin salirà perché adesso il bitcoin non solo è l'oro digitale signori ma forse non vi siete dimenticati un punto importante bitcoin è uno strumento di scambio in tutto il mondo si può pagare dappertutto potete passarlo a tether tether è quello che sta salvando argentina turchia e tutti questi paesi con l'iperinflazione potete trasportarli ci sono le carte di credito quindi dovete anche ricordarvi questo passaggio qui non è ancora una moneta al 100% usata ma già si usa certe è anche tanto quindi ci saranno momenti di correzione senza ombra di sì però probabilmente succederà quello che ha detto Riccardo faranno un piccolo prima dell'alving poi stornano un po' andrà un po' in laterale se non riesce ad andare oltre i massimi che fa potete vederlo anche dal forecaster ben visto avremo quella fase correttiva che potrebbe portarlo poi a 50 magari arriva a 80 arriva a 50 ma lì ci sta ma che da 70 ma arriva a 30 come ho sentito qualcuno ha detto loro non avete capito niente a 30 ci sta la barriera istituzionale lì non ci torneremo mai più secondo me a meno che bitcoin non deve finire sotto un ponte ma non credo quindi cercate di stare attenti a questi dettagli guardate dove si stanno posizionando la mano forte istituzionale quella bella pesante ha messo il tappo a 30.000 lo dissi anche due anni fa quando parlamo dei 10.000 ricordate 10.000 non ci torniamo più quando ha rotto nonostante il ribasso a 10.000 non ci siamo tornati più quindi signori il piatto è a disposizione per voi esatto quindi se questo accadrà e che se quindi il trend di bitcoin continuerà a rimanere rialzista per il 2024 2025 i soldi si faranno sicuramente su bitcoin ma è una follia non individuare le altcoin migliori su cui investire o comunque da osservare ecco poi ognuno fa quello che gli pare magari ci sono i massimalisti di bitcoin come che vogliono acquistare solo bitcoin perché è l'unica criptovaluta che ha senso di essere chiamata tale e poi invece c'è la gente come me che non è che gliene freghi più di tanto ma vuole semplicemente tirare fuori più denaro possibile dagli strumenti finanziari che esso sia bitcoin ethereum shiba ino che non sarà nel report più avviso però non vi spoilero altro perché i progetti che seguiamo sono molto più seri e hanno un potenziale a nostro avviso di crescita molto importante quindi report al coin l'abbiamo fatto apposta adesso che ci sarà l'albing perché quando lo devi fare se non in questo periodo perché in questo periodo che si creano le occasioni più interessanti quindi poi insomma vi aspetto anche al webinar che faremo insieme a christian franchin marco chiede ci sono delle cifre minime per investire in altcoin no no chiaramente ognuno fa quello che gli pare non noi non diamo consigli noi non vi diciamo investite di qua investite di là quella è una scelta vostra noi vi facciamo vedere dove noi abbiamo investito e vi spieghiamo semplicemente il perché perché i progetti possono andare molto bene e come dicevamo prima però poi la parte difficile è gestire la posizione e non essere avidi perché non tutte le altcoin diventeranno ethereum o bitcoin o si trasformeranno in bitcoin addirittura e quindi bisogna essere anche in grado di capire quando vendere o comunque incassare almeno una parte del profitto detto ciò ragazzi io direi che per oggi abbiamo visto tutto ma non tutto infatti volevo concludere con il natural gas che sta piacevolmente salendo la settimana scorsa o anzi due settimane fa in realtà ho spiegato perché avevo una view rialzista sul natural su questo strumento spiegando sia la stagionalità che a partire dal 28 ragazzi 28 di marzo che è esattamente quando ha fatto questo minimo fino al fine del mese e insomma poteva essere anzi che questo intervallo di prezzo di tempo negli anni scorsi è stato un intervallo positivo comunque i prezzi del gas sono saliti e ho spiegato anche le varie motivazioni ricordando che l'export del gas liquefatto negli Stati Uniti è in continuo aumento e che quindi aprile potrebbe essere anche quest'anno più performante degli anni precedenti e poi abbiamo visto quelle che sono le scorte dei principali paesi sia europei che negli Stati Uniti che stanno piano piano scendendo e di conseguenza quando le scorte scendono l'economia della nostra società che è ancora legata alle fonti fossili e in questo caso soprattutto in Europa legate al gas al gas in generale e quindi gli Stati prima o poi dovranno comprarlo questo gas e aprile può essere il mese giusto tra l'altro c'è una conferma mi avviso anche dalla price action a distanza di due settimane proprio con la giornata di oggi che coloro dovesse chiudere così stiamo parlando comunque di un più 4% in un giorno noi siamo long da 1.7 e da 1.79 e 5 quindi abbiamo due posizioni che sono in profitto il nostro obiettivo ricordo è 1.98 2 e un target finale in area 2.2 anche se mi sembra un po' troppo un po' troppo ottimista come target però almeno la soglia degli 1.98 secondo me la possiamo raggiungere come lo vedi tu Giancarlo Natural Gas secondo me ha dei margini di risalita importanti ma bisogna avere molta pazienza secondo me questi movimenti verranno attivati soprattutto tra maggio e inizio luglio quando inizia la stagione estiva c'è un maggiore utilizzo dei condizionatori quindi comunque il consumo aumenta però sì il ribasso è stato eccessivo quindi secondo me questo strumento a un momento o l'altro fa qualche movimento bello spettacolare quindi mantenere un piccolo long almeno non è una cattiva idea però Natural Gas come sapete è uno strumento che richiede molta pazienza poi magari ti premiano un giorno in una settimana ma dovete mantenere cioè lasciatelo lì tranquillo e aspettate tutto qua Concordo siamo long da 1.7 quindi su una posizione abbiamo già fatto l'8% ma come detto il mio primo obiettivo è il 15% quindi attendiamo ancora ovviamente se volete seguire poi la nostra operatività ricordo che c'è il gruppo Traders Club dove io Giancarlo Frisco Vincenzo Penna e i trader di investire.biz vanno a condividere la propria operatività e è concluso anche il primo trimestre quindi a breve pubblicheremo i nostri risultati del primo trimestre di Traders Club che ovviamente sono stati positivi io con questo direi che ho concluso vi aspettiamo poi mercoledì alla sessione di Scalping Live insieme a Giancarlo Frisco a partire dalle 15.15 fino alle 16.30 e ricordatevi che se avete il conto finanziato con Drive vi diamo il Beats Profile che è importantissimo per tradare sia in Intraday che in Multiday e poi avete anche un bello sconto per partecipare alla Scalping Live grazie a questa e a tutte poi le Scalping Live quindi grazie mille Giancarlo per aver partecipato grazie a voi buona serata a tutti e buon trading buona serata e buon trading a tutti grazie a tutti